Una città più vivibile, difesa del Santissimo Rosario, tutela dell'ambiente delle eccellenze del territorio, tra queste l'agricoltura, sviluppo della vocazione turistica. In vista delle comunali di maggio, Enzo Bianchi ha già il programma. Niente ancora è ufficiale, ci mancherebbe neanche la sua candidatura, ma il nome del primario ed ex sindaco è sulla bocca di tanti in città, anche su quella del diretto interessato. Lo abbiamo intervistato stamane. Enzo Bianchi in campo, quale? Nella veste di candidato sindaco? Ma possibilissimo. Io sono uomo di squadra, io sono uomo del fare, dove i programmi e tante promesse non vado appresso. Noi guardiamo ad una città dinamica, produttiva, attiva, una città vivibile sotto il profilo ambientale, sotto il profilo naturalistico, architettonico, culturale. Prima ci chiamavano Venafro, la gemma del Molise. Insomma, cerchiamo di innaffiare questa gemma e cerchiamo di farla rivivere. Premesso che in un contesto di elezioni locali il riferimento partitico non è così vincolante, il candidato sindaco in pectore ha il lavoro per trovare la quadra e la squadra, con nomi di peso della politica regionale. In merito però non si sbilancia, ma dalle sue parole emerge un appello alle forze in campo, nell'alveo del centrodestra, a superare gli steccati. Ma guardi, questo è un problema molto serio. Continuare a fare i ragazzi della Via Pall, insomma, ne è passato del tempo. Il comune, la città di Venafro, ha bisogno di una squadra che, rispettando tutti i propri ideali, tutte le proprie filosofie, pensieri, posizioni politiche, che possano anche stare insieme, ma con un obiettivo ben preciso, il bene della collettività, di una collettività che vada a salvaguardia di questi giovani, che parliamo sempre di giovani, ma questi giovani oggi sono abbastanza delusi per un'offerta di mercato di lavoro che non c'è. Enzo Bianchi ha amministrato la città nei primi anni del 2000. In caso di rielezione al sindaco, si troverà a guidare una città profondamente cambiata, sul come il giudizio aspetta ai cittadini e nello specifico ai cittadini elettori. La domanda è questa. A distanza di 20 anni, chi glielo fa fare? Questo dice qualcuno a casa mia. Io mi sono addormentato 15 anni fa, circa, 2005, anni 2005-2010, dopo di che mi risveglio oggi e che noto, ma non me ne voglia nessuno degli amici delle amministrazioni passate, presenti, eccetera, eccetera. Ma io trovo soltanto una città che è completamente addormentata. Grazie. Grazie.